Il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua non ha dubbi. Le bollette emesse dai gestori dei servizi idrici in Toscana dopo il referendum del giugno 2011 sono illegittime e la parte di tariffa relativa alla remunerazione del capitale investito dalle società di gestione, abrogata proprio dal referendum, deve essere restituita interamente ai cittadini. Il Tar della Toscana ha infatti dato ragione ai movimenti in un contenzioso con l'autorità di Bacino del Basso Valdarno che a fine 2011 aveva rimodulato le proprie tariffe non tenendo conto del risultato del referendum. L'AIT, Autorità Idrica Toscana, sta lavorando alla nuova tariffazione sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Nazionale per l'Energia e le nuove bollette dovrebbero arrivare nelle case dei Toscani a luglio ma gli effetti di questa sentenza potrebbero ripercuotersi su scala nazionale. Da gennaio l'Autorità per l'Energia e il Gas ha varato un nuovo metodo tariffario in cui è stata eliminata la remunerazione ma viene reintrodotta sotto nuovo nome. Si chiameranno oneri finanziari ma comunque noi continueremo a pagare questo profitto. Secondo i rappresentanti del movimento insomma si tratta di una tariffa truffa con cui si cerca di nuovo di aggirare il referendum tanto è vero che contro questa rimodulazione sia l'Associazione Acqua Bene Comune che Feder Consumatori ha presentato un altro ricorso al TAR della Lombardia. I rappresentanti toscani dal canto loro chiedono all'Autorità Idrica Unica Toscana di non adottare la tariffazione nazionale e hanno fatto un appello al Presidente della Regione Enrico Rossi. Chiediamo anche a Rossi di aprire finalmente con il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua un tavolo per la ripubblicizzazione, un tavolo per tornare a una gestione interamente pubblica dell'acqua.